ed eccoci qua come prima domenica di settembre se potremo lamentare siamo fatti al pienone super quarto tutto pieno tutto 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 full tutto full tutto full abbiamo riempito tutto un parcheggione di un centro commerciale ragazzi e ancora continuano arrivare anche a auto mi guardate oggi non è verso solo in americane a tutte grazie